Grave incidente stradale questa mattina a Bari, lungo la statale 16, all'altezza di torre a mare. Intorno alle 11.30 una Land Rover rossa con targa straniera ha sfondato il guardrail, invadendo la corsia opposta. Terribile l'impatto con una Citroen C3 che viaggiava verso sud. A bordo una coppia, probabilmente diretta al mare, che nell'incidente frontale ha avuto la peggio. L'umor al volante è il più grave tra i quattro feriti, tutti in condizioni critiche, ricoverati nei diversi ospedali. A bordo della Jeep due uomini inglesi potrebbe essere stato lo scoppio di un pneumautico a causare la manovra azzardata. Una sterzata a sinistra improvvisa che ha fatto letteralmente volare l'auto sulla corsia opposta. I rilievi della stradale sono ancora in corso, ancora ha bloccato il traffico sulla statale 16 in direzione sud e molto rallentato verso Bari.